rumore di fondo e buonasera a tutti buonasera a tutti signore e signori e signor asterisco insomma oggi concludiamo la maratona della laica concludiamo la maratona della laica perché parliamo di mister link e insomma che cosa devo dire a parte che prima non l'avevo mai visto allora ragazzi esattamente come per cubo non so quanto avrò da dire non so quanto avrò da dire ci sta che questa recensione duri poco meno di mezz'ora come la volta scorsa come potrei dire di tutto perché sapete che io mi perdo nel parlare delle recensioni ma comunque ma comunque ma comunque ma la cosa più importante di tutti ragazzi che prima dobbiamo bere restare idratati a che buona l'acqua allora cosa bisogna dire di mister link questo film della laica del 2019 che è attualmente l'ultimo uscito e allora prodotto da chris buttler che è lo stesso regista di paranorman ci dà un film che già dall'intro a qualche crisi di identità perché viva l'adattamento italiano il titolo originale è missing link che per il contesto del film sarebbe l'anello mancante poi vi spiego in italiano è stato reso mister link che in realtà come scelta di titolo non è proprio carina non è proprio bella c'è un punto nel film in cui tecnicamente mister link viene detto e ha senso poi vi spiego però come titolo italiano è veramente brutto quindi insomma voi prendete un film che sulla copertina c'è scritto mister link quando lo iniziate nel titolo c'è scritto missing link e nei sottotitoli c'è scritto l'anello mancante quindi già lì siete all'inizio che avete confusione perché il film ha una cazzo di crisi di identità ma a parte questo qui che è un momento adattamento italiano che sappiamo che gli adattatori della laica si sono sempre divertiti a rendere il titolo un po strano perché ricordiamo che coralline è diventato coralline la porta magica paranorman è rimasto paranorman perché non perché gli sembrava strano mettere il ragazzo magico gli sembrava strano the box trolls è diventato box trolls le scatole magiche mentre cubo e le due stringhe è diventato cubo e la spada magica sono sorpreso che missing link non sia diventato il big foot magico va bene quando uscirà wildwood sarà il bosco magico di sicuro gli adattatori della laica gli piace cambiare un po di cose ma comunque nel film noi seguiamo la vicenda di questo scienziato barra avventuriero di nome lionel di nome lionel frost e in questa inghilterra ambientata un po in epoca vittoriana insomma un'epoca un po vecchia diciamo non è vecchia vintage e insomma lui è quello che vuole entrare nella comunità di questi aristocratici fieri che sono tutti belli bellini impostati eccetera eccetera e lui è quello che va a dare la caccia al big foot per guadagnarsi il posto scusate volevo dire il mostro di lochness il film si apre proprio con lui sul lago di lochness che cerca di scattare una foto a nessi per per essere ammesso nel club dove palesemente non lo vogliono sono proprio tutti tipini bellini con le con con i peli del culo pettinati insomma per farvi capire e lui non lo vogliono per nessuna ragione al mondo cosa succede succede che lionel riceve una lettera da un ammiratore segreto che gli dice guarda io ho prove dell'esistenza del sasquatch che per farvela breve a voi è il big foot per quello mi sono confuso prima io ho detto big foot insomma gli arriva questa lettera e dice guarda io le prove che il big foot esiste può venire da me qui nello stato di washington eccetera eccetera lui insomma va da questa comunità di aristocraticoni bellini dice guardate io vado in una spedizione a cercare big foot se ce la faccio ve la faccio molto breve se riesco a trovarlo voi mi ammette mi ammettete nel club e ovviamente il grande capo non ce lo vuole perché scoprire l'esistenza del big foot per l'appunto secondo lionel è l'anello mancante dell'evoluzione quindi insomma è il punto a metà fra l'uomo e la scimmia e questi e questo grande capo di questo gruppo di aristocratici non vuole che lionel trovi il big foot perché non vuole che la gente comprenda che l'uomo discende dalla scimmia cioè lui è tipo no noi uomini siamo proveniamo da grandi uomini non da grandi scimmie che schifo l'evoluzione che schifo le donne insomma c'è proprio un punto nel film verso la fine in cui dice wow lei è con è con una be è con un mostro e con una donna cioè vi fa capire il cattivo che tipo di cattivo sia nella storia twitch staff nessuno prenda quest'audio fuori contesto sto riferendo le parole del cattivo della storia che dice queste cose proprio per evidenziare il fatto che è il cattivo della storia allora se qualcuno mi parla di politica lì correcte qui lo inculo con sangue e vina lo inculo con vina ville colla cazzo come mi aveva detto la maestra di doppiaggio come cazzo mi aveva detto mi aveva detto in culo a vetro e vina ville perfetto se qualcuno di voi mi fica del politica lì correcte in questo in questa in quest'audio prendendo cose fuori contesto lo inculo a vetro e vina ville insomma con la sabbia a saltelli insomma cosa succede lionel è lì che gli dice guarda facciamo questa scommessa tanto se lei è sicurissimo che io non riuscirò mai a trovarlo non ha un cazzo da perdere quindi fanno questa scommessa però anche quest'uomo qui suda quest'uomo qui suda perché sa che se vince fa una figura di merda e dice cazzo non posso accettare che noi discendiamo dalle scimmie no noi siamo nati uomini e e viva viva che schifo l'evoluzione insomma noi siamo sempre stati uomini punto lionel fa i bagagli va nello stato di washington a cercare il big foot lo trova anche subito e qui si scopre che in realtà il big foot è intelligente è in grado di parlare ed è lui stesso che ha scritto a lionel per venire da lui e farsi scoprire questo perché perché il big foot è solo è solo non ha nessuno della sua specie il mondo degli umani è sempre più grande mentre il suo è sempre più piccolo ed è lì letteralmente a dire a ser lionel io da tutti gli articoli giornali mi sono trovato ho capito che tipo di persona è mi porti via mi porti da un'altra parte in un posto dove posso stare so di questa leggenda di dell'oieti dell'uomo delle montagne e penso che possa essere un mio parente possa essere un mio cugino se tu riesci a portarmi sull'himalaya dallo yeti li fanno un accordo e lionel allora si mette d'accordo con il big foot che lui lo porta sull'himalaya dai suoi cugini yeti e il big foot gli cederà alcuni campioni e proprio pello insomma quello che serve affinché lionel possa dimostrare che il big foot esiste e guadagnarsi il suo posto nel mondo e insomma fanno questo accordo fanno questo accordo soltanto che cosa succede cosa succede insomma il capo della della cerchia degli aristocratici non mi ricordo come veniva a sapere che lionel aveva trovato veramente il big foot e quindi giustamente manda qualcuno a ucciderlo vuole mandare qualcuno a uccidere sia il big foot che il lionel e quindi c'è questo tizio bruttino incredibile che per tutto il film cercherà di fargli il culo insomma cosa succede lionel vabbè a parte comunque fare il culo a questo tizio un paio di volte lionel va da una vecchia amica che era la moglie di un suo compagno era la moglie di un suo collega di lavoro e è rimasta vedova perché lui era morto era morto in montagna era morto in montagna forse proprio sull'himalaya ma non credo venga specificata questa cosa e perché va da lei va da adelina fortnite quella che insomma ti fa ti fa la victory royale insomma che bello un sacco di bambini oggi non sapranno scrivere per bene fortnite insomma va da lei perché il marito aveva una mappa su come arrivare effettivamente in quella parte dell'himalaya dove dovrebbero esserci gli ieti nel famoso shangri la lui ha questa mappa che indica come arrivarci ce l'ha la moglie che ovviamente col cazzo che gli vuole dare la mappa col cazzo che la voglio che la voglio che la vuole dare tu non ti fai vivo per anni non ti presenti nemmeno al funerale di quello che era il tuo migliore amico e ora vieni qui pensando di parlarmi per benino per benino in modo che io ti dia una delle cose più preziose per il mio defunto marito sì ma te sei grullo niccapo vattene via ti prendo a sassatene denti cioè c'è un punto dove letteralmente gli urla proprio cacciandolo via gli urla guai a te persino in lingua originale proprio in lingua originale se avete orecchio sentite che gli urla guai a te è bellissimo perché lei è tipo è tipo mezza è tipo mezza messicana mezza spagnola non ho capito bene però qualcosa ogni tanto ce lo butta credo che guai a te sia più italiano che spagnolo ma va bene piccoli dettagli piccoli dettagli ragazzi tanto una frase urlata di fondo insomma a quel punto cosa succede lionel e il bigfoot che da questo momento si chiama mister link e qui ci ricolleghiamo al titolo del film perché lui letteralmente per dare una falsa identità al bigfoot che letteralmente se lo porta dietro travestito da persona è tipo una persona alta due metri grosso e pelosone però bastano un paio di vestiti e tutti lo scambiano per una persona è normalissimo letteralmente gli ha dato il nome del vecchio collega non quello morto ma un altro che si vedeva all'inizio del film e faceva i bagagli e si va dalle palle e cambiando da mister lind con una mister lint mister link e viva abbiamo un altro individuo perfetto quindi a questo momento il bigfoot si chiama mister link lui e mister link si intrufolano di notte nella casa di adelina per fottergli la roba per fottergli la roba lei se ne accorge il giorno dopo letteralmente li trova alla stazione e è pronta a scassare lionel di botte si presenta anche anche il sicario parte un mezzo casino però anche adelina decide di unirsi all'avventura decide di unirsi all'avventura pure lei in tutto questo macello che cosa succede in tutto questo macello riescono ad arrivare india nepal non mi ricordo di preciso dove stava forse in nepal riescono ad arrivare in nepal trovano questo villaggetto di indigeni del posto che ce n'è una la saggia anziana del villaggio che conosce effettivamente la strada perché a una certa la mappa si ferma e lei è l'unica che conosce la strada si fanno dire la strada da questa tipa e riescono ad arrivare al famoso Shangri-La letteralmente nel posto dove vivono gli yeti ora ragazzi io l'avevo chiamato fin dall'inizio che ci sarebbe stato un plot twist perché il plot twist era che cioè la mia previsione era che lo yeti in realtà non ci fosse cioè la mia previsione era sai se arrivano laggiù e lo yeti non esiste però ora vabbè esiste il big foot perché non fargli esistere anche lo yeti ma comunque il plot twist è che arrivano laggiù portano mister link che nel corso del film ha cambiato di nuovo nome e adesso si chiama susan per sua scelta personale quindi adesso ci riferi me ci riferiremo a mister link come susana anche perché mister link è un nome che viene usato momentaneamente nel film e che a scelta d'adattamento come titolo del film fa veramente care lo chiameremo susan perché lui stesso una certa nel film decide di decide di farsi chiamare susan praticamente si scopre che gli yeti non lo vogliono gli yeti non lo vogliono te sei il cugino di campagna fai schifo ci disonori tutti quanti te non questa non è casa tua e quindi insomma bello susan ha praticamente viaggiato l'oceano in mezzo mondo per arrivare da della gente che non lo vuole e che letteralmente assieme a ad elina e lionel lo gettano nel pozzo della disperazione della morte incontrastata della vendetta del diavolo a tre teste dei signori che mai furono e qui arriva il momento dove anche lionel un po grazie all'aiuto di ad elina che gli ha messo non una pulce ma un intero cane dentro l'orecchio per tutto il film e qui anche lionel capisce che lui e susan sono uguali lui e susan sono uguali perché susan ha sempre vissuto nel suo mondo cercando di fare parte di qualcosa e alla fine quando ha trovato quel qualcosa che stava cercando si è reso conto che non lo volevano che non lo volevano e che quindi tipo ha passato tutta una vita in seguire un sogno che non può ottenere mentre lionel li capisce grazie ad ad elina che anche lui ha sempre vissuto nel suo mondo ha sempre voluto far parte di questa cerchia di aristocratici che non lo vogliono e che fanno di tutto per non averlo lì capisce che anche lui sta inseguendo un'utopia un mondo di cui non farà mai parte è bella questa scena perché si riesce finalmente a comprendere che entrambi i protagonisti sono uguali e questi qui arriva il momento di riscatto c'è il momento di riscatto in cui riescono a scappare dal pozzo della morte incontrastata riescono a scappare dal palazzo ma si trovano letteralmente davanti il capo della cerchia di aristocratici che visti i continui fallimenti del sicario si è detto vaffanculo se vuoi qualcosa di fatto bene te lo fai da solo e quindi si presenta letteralmente lui con un fucile a canne mozzo e pronto a sparare a lionel che lì proprio a cazzo duro gli fa la morale dicendo ah guarda sì te fai pure quello che vuoi non me ne frega più un cazzo di far parte della vostra cerchia quel mostro ha un nome si chiama susan se gli vuoi fare il culo devi passare prima su di me quindi il cattivo letteralmente spara al ponte di ghiaccio per farlo crollare soltanto che insomma succede un casinice letteralmente rissa botte per tutti morale della favola i buoni vincono i cattivi perdono l'inghilterra domina ragazzi datemi un euro per ogni volta che ho detto questa frase alla fine di un film cioè letteralmente il cattivo e il sicario letteralmente precipitano in questo burrone enorme mentre i nostri personaggi riescono a salvarsi e a questo punto finito il viaggio ad elina parte per la sua strada parte per la sua strada riscopere tramite questo viaggio ha riscoperto che vuole qualcosa per se stessa lionel rimane a bocca asciutta lei letteralmente va a cercarsi un altro compagno a giro per il mondo mentre lionel capito il proprio posto nel mondo e capito che susan non può avere una vera e propria casa tutta per sé decide di assumere susano come nuovo collega decide di assumerlo come nuovo collega e adesso loro due lavorano assieme tutto bello tutto felice tante belle cose e auguri a te a famiglia devo bene ah oh mio dio oh mio dio insomma ragazzi e beh che devo dire beh che devo dire allora la storia è abbastanza buona è abbastanza carina ci sono dei momenti commedia abbastanza buoni forse vabbè qualcuno direbbe ci sono un paio di scene filler ma secondo me comunque sto pensando ci sono scene che alla fin fine nella storia non portano a niente gira e rigira non c'è tantissima roba che non porti a nulla che si possa definire filler cioè più o meno ogni scena serve ad arrivare a un certo punto quindi insomma la laica non è che ci ha fatto stronzate anche perché soprattutto se fai un film in stop motion non credo che tu possa permetterti scene filler anche perché ragazzi credetemi un film cioè con un film con un cartone animato normale ve lo potete permettere più o meno di fare scene inutili con un film live action potete permettervi di fare scene inutili con un film in stop motion tu sai che ogni scena deve contare con un film in stop motion tu sai che non puoi perdere tempo in una scena dove i personaggi scorreggiano e ridono quindi diciamo che una scena come quella del ballo nel bar nel secondo film di sonic in un film in stop motion non te la puoi permettere anche perché la stop motion costa e non solo soldi costa anche tempo e sanità mentale ricordate ragazzi non vi rendete conto non potete rendervi conto di quanto sia tedioso fare un'animazione in stop motion finché non la fate voi stessi quindi dato che anche io ho portato una stop motion al mio esame di maturità so che sbatti enorme sia e meno male che la mia era soltanto 12 fotogrammi il secondo perché la professoressa stupida idiota la voleva effettivamente 12 fotogrammi il secondo però mia ex professoressa non ascolterà mai questa roba e posso dire quello che voglio perché non sto facendo nomi e cognomi però veramente è una delle persone peggiori che mi sono mai che mi siano mai capitate davanti lei è una persona che non ha la minima idea di come insegnare e non ha la minima idea di come parlare a delle persone spero che la licenzino si ritrovi sul lastrico e non che muoia subito ma che aveva una vita lunga molto lunga ma che faccia schifo fino all'ultimo secondo una vita che le faccia provare miseria e disperazione ma che non la uccida subito perché deve avere tutto il tempo di capire che è stata una persona di merda perfetto chissà sa io ho potuto dire tutte queste cose non ho fatto nomi né cognomi quindi dovrei essere a posto però meno male che non le ho mai mostrato troppe cose della mia stop motion perché se no sarebbe diventata la sua e non la mia quindi tornando chiudendo questa parentesi smatto e tornando a parlare del film visivamente parlando è tanta roba visivamente parlando è tanta roba non lo so da una parte lo stile grafico mi è piaciuto più di quello di cubo lo so che probabilmente sto bestemmiando scusami Elisa se stai ascoltando questa quest'audio però non lo so non lo so se devo pensare a lo stile grafico cioè stile grafico per modo di dire è un film in stop motion però non lo so mi rimane più nella mente questo di mister link che quello di cubo nonostante cubo abbia comunque delle belle scene fatte coi controcazzi però molto carino molto carino e c'è qualche cosa particolare che devo dire no ragazzi più che altro c'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo che è stata la scena sulla nave c'è una scena sulla nave dove c'è la nave che quasi si ribalta cazzo quella scena quanto mi è piaciuta da vedere mi è piaciuta da vedere a un livello veramente spaventoso poi mi piace vedere questi dettagli questi close up sui volti dei personaggi che Sir Lionel quando parla se guardate bene è riuscito a vedere le basette che si muovono il capo della della congrega di il capo della cerchia di aristocratici riuscite a vedere la goccia di sudore che gli cala in un film in stop motion porca puttana e comunque abbastanza buono abbastanza buono e sono belle le scenografie sono belle le scenografie il palazzo degli ieti è una cosa che io alzo le mani e no un'altra piccola cosa ragazzi rimanete durante i titoli di coda rimanete durante i titoli di coda perché ci sono delle piccole chicche sparse qua e là e magari ogni tanto leggete anche magari cioè perché a volte in titoli di coda mettono qualche cosa animata eccetera ma ogni tanto leggete anche quello che vi trovate davanti ci sono delle piccole perle e ragazzi il plot twist il plot twist ci sono delle reference in questo film ci sono delle reference box trolls cubo e paranorman sono ambientati nello stesso universo di mister link perché verso l'inizio del film quando lui apre un cassetto se avete occhio vi accorgete che c'è un ritaglio di giornale con il disegno con un disegno di un box troll al lato c'è la statuetta di scimmia di cubo riparata cioè proprio intera intera e c'è il libro delle fiabe di paranorman a questo punto io mi stavo a chiedere ci sarà anche una citazione a coraline da qualche parte perché hanno citato tre film di quattro fatti fino a quel momento mi sembra strano che coraline che è quello che ha fatto più successo non lo citino però non sono riuscito a beccare nulla non sono riuscito a trovare nulla ho trovato soltanto questa specie di mini cosa di questo mini calco che forse se guardavi bene c'era un qualcosa al centro che poteva sembrare un bottone ma non era abbastanza buona qualità quindi lo lasciamo una supposizione però ragazzi sapere che quattro film della laica sono ambientati nello stesso universo tanta roba quindi a questo punto dobbiamo rivederli e cercare una reference a coraline perché ci basta che uno solo di questi quattro film citi coraline di conseguenza esiste in quell'universo ragazzi io sono una persona che vive nella ferma convinzione che tutti i media proprio tutti i film tutte le serie tutti i videogiochi siano tutti ambientati nello stesso universo cioè se voi vi mettete a collegare tramite easter egg eccitazioni tutte queste cose arriviamo alla conclusione che tutto è canonico in tutto bellissimo e devo ancora comprare un peluche di kel per rendere canon tutti i miei altri peluche nell'universo di omori lo devo fare cosa devo dire cosa devo dire no a parte queste reference veramente belle però comunque carino carino mi è piaciuto mi è piaciuto il design dei personaggi mi è piaciuta tanta roba e semmai ci sono un paio di cosette che mi hanno dato fastidio cioè tipo mi ha dato fastidio vedere il cavallo di lionel con gli occhi frontali cioè il cavallo non è un predatore un cavallo non ha gli occhi frontali come una persona come il gabbiano oh mio dio povero gabbiano povero gabbiano povero gabbiano indeed insomma no ragazzi cioè questo gabbiano io ce l'ho fisso nella testa questo gabbiano e più ripenso a questa immagine più mi dico com'è possibile che la laica abbia fatto una cosa simile perché evidentemente questo uccello normale è un gabbiano normale fatto in stop motion ma gli occhi sono di un finto sono di un finto enorme io li ho visti e mi sono detto che cazzo che problema ha questo gabbiano no ragazzi quando vedrete il film vi accorgerete di che gabbiano sto parlando cioè ve ne accorgerete perché ha degli occhi che stonano completamente col tutto ma vabbè a parte questo tutto bene l'elefante ce l'aveva gli occhi frontali perché c'è anche un elefante nel film ma forse gli elefanti hanno gli occhi un pellino frontali forse sì forse sì ma vabbè che altro devo dire ragazzi ripeto vorrei tantissimo dire che c'era anche una citazione a Coraline ma quel calco era a qualità d'immagine non abbastanza ma proprio anche in 1080p non era abbastanza in qualità e quindi è tosta capire se fosse effettivamente un bottone oppure no a livello musicale non gli devo dire assolutamente nulla a livello musicale non gli devo dire assolutamente nulla perché ci sta tanto la colonna sonora e a livello di adattamento non ho notato grandi scazzi non ho notato grandissimi scazzi però lo preferisco in italiano lo preferisco in italiano in inglese non è male ma c'è il problema che c'è un pelino di inglese britannico e io l'inglese britannico non è che lo mastico benissimo c'è un pezzo bello però c'è un pezzo bello in inglese che in italiano più o meno hanno provato a fare la stessa cosa ma non ha cioè va bene ma non ha la stessa energia che letteralmente quando Lionel e Susan sono nella casa di Adelina che cerca per cercare di farsi dare la mappa del marito defunto letteralmente c'è Susan che ve lo dico prima in italiano e poi in inglese è tipo eh sì più o meno anche io probabilmente perché la mia caverna puzza di me e Lionel lo interrompe parlando gli sto facendo meglio se tu aspetti qui fuori quindi tipo sì la mia caverna puzza di me meglio se tu rimani qua fuori più o meno cioè non è preciso preciso così ci hanno provato va abbastanza bene però in inglese è molto più bello in inglese è molto più bello perché dice letteralmente I'm the same way too maybe because my cave smells like should you wait here cioè letteralmente stava per dire my cave smells like shit e Lionel parlandogli sopra should you wait here è bellissimo questo aggancio è meraviglioso io spero che a doppiaggio ci facciano fare una cosa simile cazzo insegnanti di doppiaggio lo so che basandosi sugli attori viene tutto molto meglio perché ci sono più movimenti da seguire ci sono molti più riferimenti ma cazzo fateci doppiare anche qualche cartone va bene che l'ultima volta abbiamo fatto South Park la parolaccia con la C ma per favore dateci più cartoni dateci più cartoni non credo che qualcuno di voi ascolterà questa recensione ma dateci più cartoni vi prego mi divertirei un botto e a parte questo tutto bene ragazzi cioè le voci dei personaggi ci stavano tutte molto molto bene e ripeto cioè in realtà non c'è una vera differenza fra italiano e inglese semplicemente preferisco italiano perché per quanto sia buono il doppiaggio inglese ogni tanto c'è proprio dell'inglese britannico e quindi non sempre gli sto dietro perché è un po' più difficile da capire per me per me lo capisco però ogni tanto qualche piccolezza me la perdo e beh che dire di questo grandissimo successo della Laika c'è soltanto da dire che insomma ha avuto un budget di 100 milioni di dollari e ne era incassati 26 diciamo che non è stato un grande successone ha tipo floppato malissimo ha tipo floppato malissimo mister link e quanto cazzo sono dispiaciuto di questa cosa perché va bene non mi verrebbe da dire che è il migliore in assoluto della Laika però cioè un mega flop così no non se lo meritava un mega floppone così e sono dispiaciuto un botto comunque ragazzi beh che dire beh che dire nulla adesso la maratona Laika è finita e aspettiamo Wild Wildwood aspettiamo Wildwood e ne stavano facendo anche un altro e però ancora non sappiamo le date di uscita quando usciranno vi farò sapere e nulla che cosa devo dire abbiamo finito la maratona della Laika è stato interessante 122 film nuovi quest'anno let's go insomma migliore film della Laika adesso è il momento di fare la mia top 5 è il momento di fare la mia top 5 allora dal migliore al peggiore vediamo un pochettino allora vediamo 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 sono 5 film non dovrebbe essere difficile allora io penso che possiate immaginare anche voi che per ragioni ovvie Coraline per me è al primo posto Coraline è al primo posto per me sia per valore affettivo perché mi ricordo proprio che andai a vederlo al cinema lo vidi al cinema e fu il primissimo film nella mia vita che mi fece dire una volta finito voglio restare qui e vederlo una seconda volta proprio a bomba diretta ma anche perché Coraline come ho detto è un film che non sembra fatto 13 anni fa è un film che è fatto talmente bene proprio a livello visivo oggettivo straricco di dettagli che lo guardi e ti dici come cazzo è possibile che questo sia un film di 13 anni fa si dicevo 15 ma mi sono sbagliato il film non è del 2007 e del 2009 quindi 13 anni fa però cioè Coraline è un film che davvero sono 13 anni che lo riguardo continuamente e ancora noto dettagli ogni volta che lo riguardo cioè voi ditemi un film che dopo 13 anni ancora vi accorgete di cose nuove cioè io ma io sono sicuro che se Coraline lo riguardo l'anno prossimo mi accorgo di qualcos'altro che non avevo visto tutte le altre volte cioè Coraline secondo me potrebbe essere a man bassa il miglior film in stop motion che abbia visto finora quindi ora non dico il miglior in assoluto perché esistono tanti altri film in stop motion là fuori ora subito dopo questo io devo guardarmi Pinocchio di Guglielmo del Toro quindi cioè ho ancora tempo per guardare quello e dirmi cazzo mi sbagliavo su Coraline Pinocchio è un film della Madonna fatto benissimo però ragazzi ancora non l'ho visto non posso esprimere un parere per ora io parlo per le conoscenze che ho in questo momento Coraline è quello che reputo proprio a man bassa il miglior film in stop motion in assoluto che io abbia visto finora perché proprio nonostante sia il primo film della Laika si vede che hanno voluto fare un qualcosa di fatto veramente bene cioè ora non vi sto a fare tutto uno spiegone perché ne ho parlato per un'ora e mezza di Coraline però se avete ascoltato la mia recensione sapete tutte le ragioni per cui lo reputo un film a dir poco perfetto e non è proprio per leccare il culo proprio lo reputo veramente un film perfetto che potrei che si potrebbe far vedere a chiunque a qualsiasi età chissà quante volte c'è proprio un film che ti viene voglia di riguardarlo per notare altre cose quindi Coraline assolutamente al primo posto poi vabbè se consideriamo anche che hanno lavorato assieme all'autore del libro che ha aiutato nella produzione e voleva che il film diventasse un cartone animato per le figlie diciamo che avere l'autore dell'opera originale sul set dall'inizio alla fine che ti dice cosa puoi cambiare che cosa no è un privilegio che in pochissimi hanno molto spesso la gente dice ah si guarda ti do i diritti fai quello che vuoi basta che non cambi queste due tre cosette ma per il resto puoi fare il cazzo che vuoi però avere l'autore che sta proprio lì a dirti questo lo puoi cambiare questo no dall'inizio alla fine è un privilegio che hanno veramente in pochi e credo che questo abbia aiutato ancora di più Coraline a essere un film perfetto quindi Coraline al primo posto secondo posto al secondo posto credo che ci potrei mettere forse Kubo forse Kubo per il fatto per il fatto che prima di Pinocchio di Del Toro era da quel che ho capito il film in stop motion più lungo quindi già se è il più lungo vuol dire che ha preso più tempo di realizzazione si sono fatti un culo enorme io ho ancora presente la barca con tipo un milione di foglie e lo scheletro alto 5 metri cioè pensiamo che questi hanno fatto un manichino di 5 metri che lo muovevano con le gru porca puttana e più che altro per Kubo ho apprezzato più che la storia tantissimo il design Kubo ha un grandissimo design e credo che questa cosa non sia discutibile poi vabbè è bella la storia tutto quello che vuoi però insomma diciamo che Kubo lo apprezzo molto di più per il retroscena Kubo lo apprezzo molto di più per il retroscena sai che cosa forse forse Kubo lo metterei al terzo posto proprio di pochissimo e al secondo ci ficcherei Paranorman perché Paranorman si è proprio ti fa ridere ha una storia scritta bene ha dei bei colpi di scena e soprattutto la strega porca puttana la strega è tipo sborrone in sala cioè io non riesco a togliermi dalla testa come l'hanno fatta cioè avevano il manichino in stop motion che lo muovevano ma hanno fatto tutte le deformazioni tipo gli sdoppiamenti e tutto con la CGI però tutte le folgori lanciate dalla strega erano fatte a mano disegnate cioè ragazzi di che cazzo stiamo parlando cioè poi è oggettivamente bello cioè diciamo che allora si può fare così Coraline al primo posto Paranorman al secondo Kubo veramente di pochissimo al terzo posto diciamo che fra Paranorman e Kubo se la battono però se proprio devo scegliere una posizione Paranorman 2 Kubo proprio di uno 0,1% al terzo posto Mr. Link lo metto al quarto posto perché per quanto non ci sia una storia che brilli per originalità a parte credo che la sceneggiatura sia originale poi vabbè la storia è buona è simpatica è una buona realizzazione e tutto però diciamo che se devo paragonarlo a quegli altri lo metto un pelino sotto quarto posto e quinto posto ci metto Box Trolls quinto posto ci metterei Box Trolls che comunque è realizzato bene come tutti i film della Laika però diciamo è quello che mi ha dato di meno diciamo che Box Trolls è quello che mi ha dato di meno che mi rimane di meno poi ripeto sono tutti buoni film però almeno questa è la mia classifica e vabbè è la sposa cadavere non lo conto veramente perché non era non è proprio Laika e ancora non ho capito bene se la Laika ci aveva lavorato in fase embrionale o se l'hanno fatto quelli della Laika e poi dopo è diventata Laika questa cosa ancora non l'ho capita però so che in qualche modo era collegato quindi insomma la sposa cadavere non lo contiamo quindi nulla aspettiamo che esca Wildwood aspettiamo che esca Wildwood e beh che dire beh che dire abbiamo finito con la Maratona Laika abbiamo finito con la Maratona Laika e adesso quando avrò un po' di tempo mi recupero Pinocchio di Guglielmo del Toro perché oltre che essere un film in stop motion è la cosa mi interessa tantissimo perché ripeto un film in stop motion non puoi fare un film di merda cioè nel senso puoi fare un film di merda in stop motion ma a livello di soldi e di tempo e di sanità mentale non ti merita se vuoi fare un film in stop motion devi assicurarti ancora prima di cominciare che la storia sia scritta bene che faccia successo quindi ho buoni propositi ho buoni propositi anche perché molta gente me ne ha parlato veramente bene e dopo quello non so che cosa mi vedrò perché siamo verso la fine dell'anno e non ho veramente degli obiettivi dato che il mio cioè il mio impegno personale di vedere 120 film e quest'anno l'ho già superato quindi sono a 122 con Mr. Link con Pinocchio arrivo a 123 venerdì sera sono a vedere Christine la macchina infernale di Carpenter arrivo a 124 so già che film vedermi per l'ultimo dell'anno quindi 125 non credo che arriverò a 130 film però diciamo che ora che ho finito soprattutto ora che ho finito con la Laika sono abbastanza più libero e posso vedermi un po' il cazzo che mi pare tanto la prossima maratona che penso la farò in realtà io devo ancora fare la maratona Don Bluth ragazzi io lo so che sto continuando a rimandare la maratona Pixar e Dreamworks ma c'è un problema cioè che i film della Dreamworks e della Pixar sono tanti sono tanti cioè come fare maratona Disney 2 maratona Disney 3 sono tanti i film che hanno fatto e se vado su Don Bluth si ha fatto un bel po' di film ma non sono comunque nemmeno tanti sono tipo una decina quindi non so devo decidere che cosa fare a parte inizia un anno nuovo poi inizia un nuovo anno vediamo che cosa si riesce a fare tanto prima o poi Dreamworks e Pixar mi recupero effettivamente tutto perché ci sono molti film che non mi ricordo e molti film che non ho proprio mai visto cioè per dire cioè per dire roba come il primo Toy Story io l'ho visto una volta da bambino ma non mi ricordo quasi niente io il primo Shrek l'ho visto un paio di volte ma non me lo ricordo tantissimo quindi insomma bisogna vedere un po' bisogna vedere un po' però ragazzi vabbè ora mi prendo una pausa e mi metto su Gungeon buonasera vi voglio bene un bacione grazie a tutti Grazie a tutti.